se sono riuscito a recuperare i miei orologi di quando ero ragazzino e questo l'ho già rimesso in funzione questo qui è in fase di pulizia lo smontato completamente l'ho lavato con il pulitore ultrasuoni logicamente non la parte elettronica e adesso c'è la parte più difficile questo qui invece non neanche ancora iniziato questo è il lavoro più difficile provare a molare il vetro e mi sono preso una pietra con due grane qua c'è una con una grana super fine e vediamo se ci riesco andiamo a fare delle righe per con la matita per vedere dove scava di più si vede abbastanza bene che ci sono due punti leggermente più alti oppure la pietra quindi bisogna sempre fare girare mentre si va io normalmente ne faccio 20 e poi giro di 45 gradi 20 e giro ragazzi dopo una bella oretta passata a far avanti indietro sulla pietra forse sono arrivato a far sparire le righe ci sono i segni logicamente della della pietra bene adesso bisogna andare avanti con le grane man mano grana sempre più sempre più fine e vediamo che cosa si riesce a ricavare dopo svariati passaggi quindi a lucido sono riuscito a ottenere questo risultato che non è ancora una cosa direi bellissima ma non avendo altri strumenti per lucidare il vetro me lo faccio andare bene allora ragazzi adesso andiamo a fare una cosa difficile che non ho mai provato a fare e quindi è la prima volta anche per me voglio provare a ricostruire vedete che qua avevo rotto tutta la parte da questo lato qui allora come facciamo provo perché non lo so allora 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 con il saldatore ho preso un pezzo di un vaso nero che la plastica dovrebbe essere circa la stessa e ho provato già a farlo prima dall'altro lato e ho visto che più o meno funziona quindi ve lo faccio vedere e andiamo a fare questo lavoro qua ok non è chissà che lavorone però ci permette di ripartire da un qualcosa di decente poi lo gioco con la lima si va a rifinire adesso vado a tappare anche questo buco che aveva fatto mio papà per permettermi di continuare a usare l'orologio la stessa maniera che abbiamo fatto prima quindi saldatore ecco questo se lo vede un purista delle saldature gli viene male perché i saldatori a stagno guai a sporcarli ora lo rifiniamo ecco ecco ok ecco ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ho fatto così. Poi gli ho dato una carteggiata e questo è il risultato. Ora proviamo ad andare a rimontarlo. Il vetro come vedete nonostante la buona volontà non ce l'ho fatta a farlo venire lucido e quindi l'ho comprato di ricambio su Aliexpress ma lo trovate anche su Ebay per la modica cifra di 3 euro spedito. Eccolo qua. Eccolo. Il difficile è stato trovarlo da 3 mm di spessore però ce l'ho fatto quindi userò quello. Grazie. 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 Casio BM500W. Questo è il seriale dell'orologio. bene eccolo qua eccolo qui tornato al suo antico splendore vi faccio vedere anche i punti ricostruiti che non sono bellissimi ma meglio di nulla tra l'altro la plastica intorno era diventata dura quindi si sfibra allora l'ora funziona vedete lì sotto però da un segnale di error probabilmente il sensore qua del barometro non è più non è più a posto ma infatti aveva tutta una plastica che si scioglieva infatti se vado sul barometro non va però per il resto funziona cronometro ed eccoci qua bene se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e alla prossima puntata grazie a tutti